Ecco l'affascinante storia di un brand cosmopolita, a partire dal significato del nome. Karma è un termine che indica, nelle filosofie indiane, il principio di causa-effetto, secondo il quale ogni azione provoca una reazione. Morocco in Nabibia significa prosperità. In sintesi, i due termini ispirano un brand total look, frutto di una lunga ricerca di stile. Le contaminazioni di differenti culture danno vita a prodotti che ne riprendono i colori antichi, l'aspetto lontano nel tempo. Il brand Karma in Morocco interpreta lo stile di chi ama la ricchezza del tempo, la tradizione, la cultura e l'arte. Sono consapevoli dell'unicità di tutto ciò di cui si circondano e vivono seguendo la filosofia I don't know where I'm going, but I know this is the way. Per l'autunno-inverno 2012-2013 la collezione propone un concept ispirato alle atmosfere della campagna britannica, contaminata da elementi esotici di derivazione indiana che ne costituiscono la fibra del marchio. Per l'uomo lo scenario è vagamente retro nella scelta dei materiali, spinati, lane infeltrite e tweed che ricordano la tradizione inglese. I particolari sono sempre molto curati ed ispirazione sartoriale. Il must have per l'uomo è il picote in maglia a coste di lana completamente destrutturato. La donna segue lo stesso mood mischiato però a tocchi etnici come le fantasie cashmere o gli accessori che si rifanno ad antichi gioielli. Nella collezione si fanno notare le camice e gli abiti che riportano la leggerezza della seta da indossare con il pull di lana bucle fatto a mano. Imperdibili il giacchino corto in maglia a trecce con maniche di pelle e il ricco collo in Mongolia e il cappottino spinato anni 40 con collo in volpe staccabile tutto nei toni inusuali del bordeaux. Grazie per la visione!